Oggi e domani all'Aurum torna l'evento Innovazione organizzato dalla sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara con Rete 8 Media Partner. Focus di questa edizione 2023 l'intelligenza artificiale, oggetto di dibattito con ospiti internazionali. Torna anche la gara di idee tra studenti universitari, sono 24 i finalisti di quest'anno. Organizziamo il Novation Hackathon, questo ormai da sei anni lo facciamo, e diamo loro l'opportunità di risolvere delle problematiche reali che delle aziende associate a Confindustria Chieti Pescara sottopongono a questi ragazzi. Inevitabile sollevare anche la questione etica e gli eventuali cambiamenti legati all'introduzione dell'intelligenza artificiale che non è appannaggio delle grandi multinazionali ma che è ben utilizzata con risultati sorprendenti anche nelle aziende piccole, come rimarca Giuseppe Biffi, la figura di riferimento dei sistemi digitali di Siemens. La storia ci dimostra che è più una trasformazione, un'evoluzione di quello che è il ruolo dell'umano, dell'uomo all'interno dell'industria. Quello che vogliamo fare è cercare di far evolvere la professionalità, sgravare l'operatore dai compiti ripetitivi a basso valore aggiunto e fare in modo che si concentri su attività più creative. Ed è l'intelligenza artificiale il fil rouge che lega le idee dei giovani studenti in gara. Progetti che quest'anno sono molto variegati, partiamo dall'Agritec a progetti che riguardano il sociale per andare anche nella stampa 3D. Quest'anno avremo addirittura ben due aziende che presenteranno progetti che riguardano stampanti 3D per grandi volumi. Poi avremo progetti che riguardano anche l'Eurospace, c'è un progetto molto interessante che parla della creazione di una rete di satelliti portati nell'atmosfera tramite palloni aerostatici, quindi in un ambito completamente green. Sappiamo che mandare nello spazio degli oggetti non solo costa ma inquina molto a seguito della combustione dei carburanti che vengono utilizzati. Questa start-up ha ideato questo meccanismo che non solo permette di risparmiare sull'uso di carburanti ma addirittura non inquina. Quindi è una cosa veramente molto interessante.